il panificio ciuffreda cia la paposcia buongiorno buongiorno piero buongiorno come stai sto qua ciao emanuele buongiorno oggi è martedì martedì la data 21 è al calendario 2002 no bene allora piero il pane di monte è famoso in tutto il mondo questo è il pane di monte però piero qui noi siamo in un forno internazionale siamo in un forno internazionale perché no perché stai qui no perché c'è manuel ma perché c'è la paposcia che cos'è la paposcia è famosa a vigore è un prodotto attivo a vigore internazionale però purtroppo lo stiamo insegnando anche noi ah bene bene com'è buono è buona poi ci abbiamo il pane greco il pane greco arabo 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 poi ci abbiamo le francesine francesi viva parigi poi ci abbiamo le minchette di foggia ah è proprio internazionale internazionale benissimo senti com'è la storia della paposcia c'era la signora che si può dire sono delle signore che dice la paposcia che cosa credo io penso che è qualcosa di donne proprio come faccio no ma pare ah no ma pare non è il paposcio no 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 è la paposcia e lo potete dire come ti spieghi la cosa una signora che c'è dire una signora ma anche le ragazze sono venute a paggare la paposcia e questa qua come questo è la paposcia e si mette una linea e quale è vero perché mi deue eh la papossa è questa è una stupazione c'è uno corsiere normale la papossa è il caso chi sa che cos'è è qualcosa di donna è la papossa è una cosa che si mangia venite a mangiare la papossa benissimo, grazie Piero buona giornata e buon lavoro se ne deve andare scusate ma noi ormai abbiamo detto venite quando è presente il titolare oggi non c'è il titolare visto che siamo andati al forno ti abbiamo fatto il tarallo va benissimo c'è però un degno sostituto buongiorno Giovanni nel mio piccolo nel tuo piccolo ciao Matteo ciao è venuta anche la maestra un saluto a Maria ecco noi abbiamo la Maria originale ciao Maria saluti i bambini ciao Matteo venite quando c'è lui oggi ci sono grandi sorprese ciao va bene ci riappacifichiamo con gli interisti con tutti gli interisti questo lo ricordate? perché ieri si è scatenato ciao un saluto a Michele Rinaldi che si è scatenato si è scatenato chissà siamo nati a Vogue Vincit stanno ancora i fotografi a colore chissà se infatti infatti ok un saluto buongiorno dallo gioca il Napoli gioca il Napoli oggi gioca il Napoli benissimo Matteo non c'è è andato via lo sostituisco il gioco Giovanni è venuto quando era presente il tuo l'arma poi è andato via c'è molta gente purtroppo no la signorina no no la signorina il fidanzato può andare via andiamo alla segna che sono 10 minuti che diciamo buongiorno la Repubblica tasse evasione ecco il decreto forse subito il taglio dell'IRPEF Monti riforma del lavoro con o senza intesa questa è la prima pagina di Repubblica Marò il rapporto il rapporto che smentisce l'India liberate i nostri Marò Bari Petruzzelli l'ora del commissario le super consulente boccia la gestione fumata nera nel CDA Emiliano in minoranza scandalo delle tessere PDL blitz della Digos a Roma come fa? eh sì andiamo il corriere della serie zitto 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 il piano di Monti e Cameron è a Bruxelles si tratta per il via libera dell'accordo sulla Grecia bene Putin schiera 400 missili e i cosacchi il corriere del mezzogiorno si è incazzato Putin incazzato incazzato pioggia di milioni sul turismo incentiva gli investimenti per grandi e piccole imprese nel frattempo a modo Sant'Angelo chiudono gli alberghi il lavoro è giovani la mobilità a uguali condizioni di Gianni Donno non è vero io sono giovane sei dentro sono dentro no che è dentro di Gianni Donno siamo pienamente d'accordo con Gianni Donno ok una cosa di soldi Petruzzale Milano in minoranza l'abbiamo detto facebook PD si spacca alcuni pensano sia più importante litigare sull'articolo 18 altri sul governo Monti non mi piace l'importante è che litigano diciamo questo è il malamorato bravo diciamo diceteci le cose nuove diceteci le cose nuove le cose nuove gazzetta del mezzogiorno alta tensione per i marò braccio di ferro Italia Indra India Masale Langoscia nelle due famiglie riforma del lavoro Monti tira dritto la gazzetta di Capitanata prima pagina no 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 Giovanni bravo commissione sanità come prima volta si sta abbiamo preparato bene commissione Giovanni che viene da Pieste il pesce che viene e va e viene e va e no non lo possiamo dire commissione sanità eccolo ah perché è un buon notatore è stato un cammino di nuoto è stato un cammino di nuoto siamo nella pace protetta ciao bambini ciao ciao non lo possiamo dire no no andiamo avanti commissione anziato sanità ecco le 12 proposte migliorare migliore assistenza scusate presentato dossier del gruppo provinciale sesso per tutti i gusti nella casa lucirossa gestita da colombiani dove 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 scoperta dalla squadra mobile c'era anche un trans a foggio a villaggio artigiano non mi interessa venite quando c'è l'ultima piega che ha preso il discorso non mi interessa quest'ultima piega che ha preso il discorso ma soprattutto la piega 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 scopre la casa lucirossa gestita da una colombiana da un trans l'abbiamo detto bordelli e lucciole di strada così il mercato del sesso in città bene maschere solidarietà e stasera la gran parata a Manfredonia partenza da piazzale di Omede dove sono in sosta i carri allegorici bellissimo andate a fare un giro a Manfredonia perché il carnevale è stupendo un saluto a tutti gli amici di Manfredonia che ci seguono su statocotidiano.it è un carro che è stato copiato comprato a Canelo dicendo ah bene bene bisogna di amici carri no assolutamente quello che volevo dire io giovani papà portate i vostri bambini a casa portate i bambini a casa oggi c'è pure Cristina D'Avena ieri è vero scusa personalmente ho potuto constatare che è proprio bello è vero è vero complimenti e anche i papà perché i bambini sono andrò mangiati dalle mamme giovani papà portate i bambini portate i 100 euro qua portate i 100 euro portate i second euro secondo me il carnevale di Manfredonia è gratuito è meraviglioso veramente si paga no ragazzi ragazzi a Manfredonia fanno paura cioè sono assurdi complimenti a tutti gli amici di Manfredonia perché veramente riescono ad organizzare un carnevale un caffè un caffè amici perché vi sono una ecco mostro ciao Manfredonia giorni decisivi i giudici d'appello decideranno se confermare la demolizione San Marco in Lamis ha provato il piano urbanistico ora al vaglio della regione bravi amici di San Marco hanno approvato il piano urbanistico benissimo Tomaiuolo Manfredonia quale bandiera mai nata l'Udcap è viva ancora Manfredonia e dal terrificio affiorarono un'area di sepoltura è un antico corredo funerario ciao Leo te ne vai? questa bella ragazza ciao 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 San Marco ancora comiquesc in scena a teatro complimenti gli amici di San Marco ancora Monte Sant'Angelo l'ultima opera di Matteo la torre lo scultore locale bene il corredo era da 6 o da 12 tutta la regione benissimo abbiamo mattino e attacco chi è? il carnevale facciamo il trenino il trenino Giovanni facciamo il trenino il trenino ci vuole del carnevale il trenino il trenino il mattino il mattino di Foggia torniamo in noi palcheggiatori sotto scaffo preghiamo in piedi bene questa è la prima pagina del mattino di Foggia lo show della diversità voluto dalla Noziello la gazzetta del mezzogiorno l'abbiamo vista il mattino l'attacco Giovanni scusate il suo primo giorno ti lavò e il suo primo giorno ti lavò perché sono troppe linguette in giro perché non ho il tuo campo di azione l'attacco se la lavò in piscina sei giusto ATAF sindacati padroni dei concorsi la denuncia di Araldo Fiscarelli è tutto già deciso Bit di Milano Monte con poco Unesco e vendola as usual senza Gargano il cuore grande non era benissimo relazione promessa di Manfrini nessuno ospedale verrà chiuso Manfrini il nuovo commissario straordinario dell'Asile ha detto che la notizia per gli amici di Manfredonia nessuno dei quattro ospedali dell'Asile Cerignola Manfredonia Sansevero e Lucera verrà chiuso nel frattempo a Monte Sant'Angelo ha aperto la dialisi ecco le dichiarazioni a cominciare dalla dialisi che proprio in questi giorni è stata attivata a Monte Sant'Angelo benissimo la primavera del Gargano alla conquista della bit di Milano i buyers intrigati consiglio l'assessore alla cultura e turismo della provincia di Foggia vetrina importante c'è skin un saluto a Federico torniamo a casa soddisfatti benissimo manca la programmazione non si può improvvisare Gegge Mangano è un anno che siamo patrimonio unesco e non hanno e non ho visto passi in avanti la polemica di Gegge il Gargano ha un solo problema quelli che lo raccontano lamentandosi Vendola è il foggianesimo di ritorno purtroppo Vendola c'ha ragione il Vendola c'ha ragione noi soffriamo della sindrome di Gallimero diamoci da fare ragazzi perché eh sì è molto ampio poi un giorno ve ne parleremo abbiamo terminato gli auguri happy birthday Garganico auguri Michele buon compleanno auguri Rossella Pasquale Fresoli Pasquale ciao Pasquale auguri buon compleanno ciao Stefano è un saluto speciale a un ragazzo che se non ci fosse bisogna inventarlo chi è? che è Libero Meloro ciao Libero auguri di buon compleanno benissimo adesso abbiamo finito abbiamo terminato pronto Maria mi è arrivato un fax ah un fax addirittura chi è? chi è? questo bisogna questo bisogna vederlo grazie che lo alzo c'è la pantalla il nostro ha picco Filippo grazie grazie Filippo potete vincere altrimenti all'edicola del Gargano vi prendono in giro grazie Filippo casuale casuale sempre casuale il nostro è arrivato il fax benissimo un saluto noi parliamo dell'Inter perché ieri si sono scatenati nei commenti e quindi ci hanno ci sono scatenati perché avete fatto questa trasmissione adesso e non quando l'intervingivo ma perché costo l'iPad l'ho comprato ora me l'hanno regalato grazie a tutti quelli che me l'hanno regalato un abbraccio abbiamo terminato un iPad a Pasquale noi lo facevamo prima un iPad ci voleva giusto a me ma io non lo so ma io non lo so anche la Juve hanno comprato bidoni sì assolutamente assolutamente ce li ricordiamo e Sniper e Sniper Dimash Dimash benissimo abbiamo terminato anche per oggi salutaci Matteo Giovanni quando viene il proprietario ciao non mancherò ciao Emanuele applichiamoci applichiamoci applicazione del giorno applicazione un saluto agli amici di Foggia ai Foggbook finalmente è arrivata l'app ufficiale per seguire in diretto tutti gli aggiornamenti alla pagina Facebook più foggiana di Torto ovviamente come le braciule se volete sapere quando verrà zerata di nuovo l'aggiunta mangiare le questioni di minuti scoprirete le anteprime le scelte di casello non potete fare sfuggire questa app per sapere di più foggi da foggi ma no per foggi ma per i fuggiano punto fuggio ma per foggi book punto fuggio benissimo braciula braciula.com benissimo un saluto agli amici di Foggbook sono meravigliosi ciao ciao bene abbiamo terminato vi diciamo grazie anche per oggi ci vediamo domani seguiteci numerosi stessa ora stessa data buona giornata a tutti ciao